Sono 15 i lavoratori privi di regolare contratto scoperti dai militari della Guardia di Finanza di Giulianova grazie ai controlli svolti tra il 25 aprile e il primo maggio. L'attività a contrasto del lavoro irregolare si è concretizzata in una serie di controlli a tappeto con ispezioni in bar, ristoranti e stabilimenti balneari operanti sulla fascia costiera Teramana. Le irregolarità sono state rilevate ad Alba Adriatica in un noto bar pasticceria che impiegava senza regolare assunzione tre addetti tra cui una giovane donna di origini ucraine e a Giulianova dove sono stati scovati due stabilimenti balneari ed un ristorante con personale italiano ed extra comunitario impiegato senza assunzione per un totale di ben otto maestranze in nero. Non solo perché anche a Martinsicuro è stato scoperto un addetto alle vendite senza regolare contratto che ha anche tentato di allontanarsi dal luogo di lavoro per dissimulare la propria presenza, mentre a Notaresco è stato identificato un bar che impiegava tre giovanissime ragazze in nero all'interno di una piccola sagra. Per le sei imprese coinvolte è stata inoltrata la consueta segnalazione all'ispettorato territoriale del lavoro di Teramo per la sospensione delle attività e per la contestazione delle relative sanzioni amministrative. Inoltre secondo le leggi vigenti le aziende responsabili dovranno assumere i suddetti lavoratori con regolare contratto per un minimo di tre mesi. I controlli si evidenzia nel comunicato sono posti in essere per tutelare i lavoratori privi di contratto in quanto soggetti a un vero e proprio sfruttamento vista l'assenza di contribuzioni ai fini pensionistici né di una copertura assicurativa in caso di infortunio sul lavoro.